vlogmas benvenuti in questo nuovo vlogmas oggi è natale e auguri a tutti vi vogliamo tanto bene oggi siamo pronti per andare con un camion pieno di buste alcuni regali già l'abbiamo scartati altri vogliamo scartarli assieme a voi perché dario amore dici tu da quant'è che stai facendo i regali al tuo amore da un mese che lui va a fare regali in giro mi ha fatto tanti regali tanti regali tante letterine è stato dolcissimo anche io ho fatto regali bene e poi guardate come c'è vestito carino tutto natalizio col maglione la sciampa e il cappello e io questo maglione anche amore il cappello mi devo mettere poi c'è cupi che immobile qua aspetta che quando lei le mette questo vestitino che tra l'altro mi regalò una mia cara follower e io lo metto sempre che è caldissimo ma lei continua sempre ad odiarlo quindi qua sotto l'albero stanno diminuendo le buste anche se alcune dobbiamo portarle a casa di mamma faccio vedere qua c'è il pane che dobbiamo scaldare qua sono i dolci qua ci sono tutti i regali che dovevo portare aprire assieme alla nancy questo è uno dei regali che ho avuto io poi vi farò vedere tutti i regali eh qualcosa ve lo darò in questo logo qualche anticipazione scarteremo qualcosa e qualcosa poi vi farò il video proprio dei regali se lo volete guardate che bella questa cover la regalata è mio amore tipo borsetta lui è tanto fiero perché fa dei regali belli e bravo poi amore facciamo vedere che sono per sono curiosi veniamo a vedere queste altre cose questo me lo regalo sempre mio amore ma questo non dobbiamo portarlo vabbè lo apriamo no accendiamo ah ok poi questo vabbè me lo regalo sempre dario dobbiamo aprirlo questa è la letterina facciamola vedere amore è troppo bella mi aiuti amore allora praticamente suona guardate che bella e poi il mio amore mi ha scritto amore mio questo me sarà un bellissimo natale perché sotto l'albero ho trovato un dono inaspettato il regalo più bello che abbia mai desiderato ti amo amore e poi mi ha regalato questi calzini che mi dispiace di metterli ci hanno l'antiscivolo sotto e questo lo metto questo si amore mantieni mantieni questa questo me lo metto che mi piace troppo come mi sta amore bene mi piace troppo mi piace troppo mi sento tanto felice amore vuoi sapere che è il mio primo anno che sono così felice non sono più grinch adesso amo il natale ci sono due uccellini comunque ragazze voi mi chiedete sempre sì no è aperta li metti tutto in quella bustina quella lari babbo natale comunque ragazze io vi volevo dire che questo rossetto nude perché in tante ve lo chiedete sempre ogni volta che io ando questo rossetto nude voi mi chiedete ma che rossetto nude allora il mio nude per eccellenza per eccellenza per eccellenza è closer eccolo qua lo adoro ed è il rossetto closer che io trovo bellissimo è super morbido è cremoso non mi secca le labbra è un rossetto da giorno che adoro e i rossetti di nabla hanno anche buon inci e li trovate tutti su caritashop.com a proposito di caritashop.com andate sul sito perché è tornata disponibile una super sorpresa ovvero tutte le collanine carita jewelry e il nostro sito è attivo quindi potete fare i vostri ordini noi spediamo tutti i vostri pacchi anche durante le feste quindi mi raccomando continuate a ordinare perché tante cose stanno finendo vero amore stanno finendo un sacco di cose e poi facciamo partire ogni giorno il corriere e in ordine cronologico spediamo sempre i vostri pacchi adesso andiamo a mangiare no mangieremo a presto no no come sono felice con il mio amore come siamo belli siamo bellissimi si guardate che busta gigante cosa c'è dentro ragazzi voglio dire tanto che amo tantissimo il mio amore e sono felicissima sono tanto felice anche di avere voi che mi seguite sempre il mio amore un lavoro che amo una famiglia che amo tante cose belle quindi quest'anno per me è stato bellissimo comunque vabbè adesso la smetto se non mi commuovo però davvero sono tanto grata anche se comunque sono successe anche tante cose brutte quest'anno però forse veramente ci sono anche quelle belle come si dice almeno un motivo per cui piangere e mille per sorridere sorridete sempre ragazze di che bello anche lo smalto nel rosso ovviamente ho messo nude perché mi sto truccando pochissimo in queste feste non mi voglio truccare proprio perché io già mi truccono poco però voglio stare proprio libera e spensierata un bel maglione e mangiare tantissimo ingrassare ragazze guardate quanta roba non so se riusci a vedere abbiamo la macchina piena di roba vero amore oddio stiamo pieni di regali andiamo a carnitashop ciao carnitashop ecco la carnitashop auguri hai visto? sii dal 27 siamo di nuovo aperti il negozio il sito invece non chiure mai non chiure non chiure mai ehi quarto bitch ciao e pupi sta qui ragazzi mi sembra giusto che nancy debba avere tutto questo davanti a lei e io sto cosettino col dolcificante cioè ma perché ho tutte queste cose poi i biscotti poi questo che cos'è? guardate com'è bello questo oh vabbè biscottini orecchia david orecchia david e lei riprende ovviamente andate a vedere anche il blog di nancy e david mi raccomando nancyvlog è il channel il canale di mia sorella c'è anche Dario ciao more e ci sono anche io ciao ciao buon Natale io mangio tutte le noccioline bella tovaglia abbiamo apparecchiato bellissima casa di mamma e papà c'è anche la nancy guardate che bello il cammino dice Dario siamo andati a fare una specie di aperitivo in centro e adesso siamo andati qua con i caralli che bella la mia sorellina guardate lei ha la collarina falla vedere quale c'hai tu comunque sono tutte disponibili di nuovo andate sul nostro shop online perché sono tornate disponibili senta che ti faccia un primo piano a favore di luce nancy c'ha la luna oro però ci sono anche altri modelli come le tre stelline che vi piacevano la stella il cuore andate a vedere che ci sono tutte questa è la mia preferita eh sì ti sta anche bene sto un po' sconvolta nancy così è molto naturale è sempre così come la vedete non è mai costruita comunque guardate qua tutti i nostri regali che adesso dobbiamo scartare davanti a voi guardate quante belle cose c'è anche molli e qua ci sono tutti i dolci tipici napoletani la pastiera gli struffoli questo è il dolci che ha portato Dario cioccolatini questo è la porta di David no io ah tu e David eh immagino no io questi sono napoletani i rococò i mostaccioli tutti questi sono buonissimi e queste sono la frutta secca e poi c'è anche Pupi ovviamente che la porto sempre amore ma quando apriamo i regali ma la frutta secca non peggio la sera amore non è tutta chiama perché è secca tutta secca ma no amore ma quando apriamo questi regali ma tu lo devi ancora trovare sì io devo trovare perché Dario mi ha fatto mi ha fatto solo otto regali di cui uno lo devo anche cercare cioè no vabbè non lo devo trovare scusa e dove amore e allora tu riprendimi io lo cerco ragazzi andiamo alla ricerca caccia tesoro per trovare il mio regalo sta solo giù o su c'è anche David David vieni vieni con il video faccio l'evento di disturbo eccolo David ciao ciao la mano si può vedere la mano? c'è la faccio però così potrebbe essere chiunque eh fatti eh lui David l'acqua ti sta allontanando il fuoco ti sta allontanando ma non riprenderà David no devi dire pensami ma che ne so io devi vedere tu allora caccia tesoro come si accende la luce di là? sta qua vai ah sta qua ma che cosa? acqua 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 vai vai sali sopra e dici sali sali e acqua fuoco e beh spesso ti fatti salire acqua 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 non lo troverei mai vai acqua vabbè che ne so io? no uffa freddo eh che vuoi? devo uscire? acqua 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 e che qua? dove sta? e vai vai uffa qua la casa è grandissima a te devi cercare va acqua acqua fuocchino fuocchino vicino alla porta fuocchino acqua fuocchino è questa piccola che stai spostando fuocchino fuori amore vai 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 saluto vai fuocchino fuocchino piccolino ma perché l'avete messo fuocchino? cioè mi devo gelare fuocchino acqua fuochino fuochino acqua fuochino 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 fuoco accendi la luce se non lo vedi fuoco che ne so io? deve si accende? è casa tua ragazzi questa è casa sua non è stato dove si accende la luce Stanno entrando il mio regalo Mamma mia come è grande Amore questo è il mio ottavo regalo L'ottavo nano Che bello Grazie amore adesso devo aprirlo Che bello Vediamo cosa è da Carita Shop Nei prodotti bellissimi che vi consiglio di comprare Per le vostre mamme Mamma questo È una cosa fenomenale Contorno occhi alla rosa Anti-age E questo è invece Una crema alla bava di lumaca Una cosa super potente Che ti toglie tutte le rughe mamma Ti ho lasciato anche il prezzo Ti ho lasciato anche il prezzo Perché non voglio nascondere Lo devi sapere Sei contenta mamma Prego mamma Mia mamma ha fatto i regali anche ai cani Vai a vedere mamma Il regalo a Pupi A Cucchi Ma Pupi è tuo quello Non iniziare Questo è regalo di Pupi Molli mamma c'è scritto No Pupi A Pupi Pupi scartiamo Scartiamo Pupi Sì anche il regalo a Pupi Che cos'è Che buoni Dove dobbiamo dare uno Un pezzettino piccolo Sì che buoni il regalo Guarda qui un pezzetto Me l'hai in metà Che rinno rapi Auguri Regalo che ha fatto Dario Dentro c'ha altri mille pacchi Incartati Amore solo tu puoi fare queste cose Cioè come si fa Ha incartato tutte le cose No vabbè E' unico Non è finito Centro Ma non è Dove Mi stai trinando Mi stai trinando Dove Mi stai trinando Mi stai trinando Mi stai trinando Se c'è una vita breve Era una nuova Ma non è Mera! Mera! Ma senti però! Mera! Mera! Non vuoi! Non vuoi gesta! No, ma perché che riguarda la sua ragione? Buongiorno! 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 Buongiorno Dario! Scusate! Ma che buono! Ma che buono! Buongiorno! Buongiorno! Ragazze, guardate qui quante belle cose poiché noi oggi abbiamo mangiato pochissimo abbiamo deciso di venire a mangiare un bellissimo panino alla Velvet Bacchery qua a Cofelice Pozzuti, per amore! Vieni! E dobbiamo comprare tanti snack per visto che stiamo a dieta abbiamo ancora il pandoro sullo stomaco e qua ci sono tanti dolci buonissimi sono quelli proprio americani quindi dopo li compreremo e faremo il video degli assaggi Sì, tu domani pensavi di stare a dieta ma dovremo fare il video degli assaggi questi qua americani, buonissimi stai contento? E adesso che panino hai preso? Titanico! Wow! Io invece con l'ho preso? Avatar! Comunque i panini più pesanti c'è Fiarielli, Amatriciana e faremo... Ragazze, nel mio panino c'è Fiarielli, salsiccia, provola e croquette spettacoloso! Ragazze, invece quest'altro è con sugo Amatriciana Hamburger e questo cos'è? Tipo pecorino comunque è un'altra bomba però è molto buono Per rimare un po' è l'ambo ai due sheriffi calzare un po' cucinare sci com att dic f